Ragazzi, mi raccomando, lavatevi sempre le mani tranne prima di salutare il vostro cerrimo nemico al fantacalcio Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special Se a parte le battute squallide, ve ne ho caricato qualcuna anche sui social con qualche meme particolare Ecco su Instagram e Facebook, i miei social li trovate come sempre in descrizione Ma anche in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball Applicazione che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio E oggi parleremo proprio di una notizia ormai che c'è stata riguardo il prossimo turno di Serie A Vi mostro anche l'articolo che è preso appunto dall'applicazione Vi ricordo appunto il link qua sotto per scaricarla, vi aggiorno veramente su tutto Sia appunto le notizie principali ma anche quelle magari più dettagliate Anche con qualche piccolo diciamo particolare, ok? E il prossimo turno appunto c'è stato l'annuncio Ci saranno le partite, ci sarà la disponibilità di giocarle a porte chiuse Era quello che mi aspettavo, anzi mi aspettavo già presa come decisione nel turno precedente Ecco poi dove sono state rinviate le partite Perché effettivamente secondo me è la soluzione migliore per questo momento Evitare ovviamente ancora per questioni di precauzione Di trovarsi appunto in luoghi troppo affollati quindi con molta gente Che potrebbe quindi aumentare ovviamente il contagio Però è giusto secondo me non fermare il tutto Anche perché andrebbe a complicare tantissimo Ecco il proseguo sia della stagione calcistica Che vi ricordo, sì, non è proprio solo un gioco Ma a volte c'è anche un business dietro E forse proprio apposito di business Era stata presa la decisione di rinviare le partite Non giocare a porte chiuse perché lo sappiamo I tifosi portano anche introiti ovviamente Ma a proposito mi è piaciuta l'iniziativa Quello che è stato annunciato Vi mostro adesso ad esempio Una notizia sempre presa da OneFootball Tramite, ve la mostro tramite appunto il sito Vediamo se riesco a mostrare senza far danni La notizia su OneFootball Ok, qui vabbè c'è il nostro store ovviamente Eccola qui, eccola qui Allora, Sky a quanto pare darà la disponibilità appunto Di trasmettere in chiaro ragazzi Juve Inter Questa è una bella cosa che mi è piaciuta Così appunto lo faccio vedere anche i miei nipoti Padre, chiunque Ecco la partita Quindi mi è piaciuta questa iniziativa Ma per quanto riguarda il fantacalcio Tutti si stanno chiedendo Ma che succederà? Cambierà qualcosa? Allora, per tutte le partite ovviamente Che sono disposte Se verranno disputate ecco Non ci sarà problema ovviamente Molti diranno Ma Carmen non c'è il rischio che questa stagione Fanta calcistica venga falsata Cioè che ci sia effettivamente un campionato falsato E quindi anche un fantacalcio Quindi falsato No ragazzi Perché vi dico questo? In realtà il regolamento ci consente ecco Di prendere delle decisioni Ok? Spero le abbiate prese ovviamente inizio anno E per il tipo di competizione che avete voi nella vostra squadra Cioè nella vostra lega Potete ovviamente adattarvi alla situazione Ovviamente per chi come detto Ha un campionato tranquillo Molto più ampio Può prendere decisioni anche più tranquille Cioè ovvero aspettare magari il recupero Delle eventuali partite che verranno rinviate Anche se quello poi complicherà un po' la situazione Una però cosa che mi è piaciuta Che hanno proposto anche molti E' effettivamente una regola abbastanza carina e simpatica Ovvero l'eventuale attesa Delle partite che vengono poi recuperate Con però un 6 politico Per quei giocatori che poi invece Non giocheranno per infortunio Per squalifica Cosa di questo genere E' una sorta di Diciamo venire incontro ecco All'esigenza di avere tutti i giocatori poi a disposizione Quindi di aspettare le partite E quella invece poi di non perdere Poi magari la sfida per Un giocatore in meno che ti viene a giocare Cioè ti viene a mancare per quella giornata Quindi è una sorta di mix interessante Che potrebbe venire incontro un po' a tutti E' una regola della quale poi vi parlerò Quindi la prossima poi estate Che quindi magari nell'aggiornamento Del regolamento del fantagalcio Potrebbe essere introdotta Perché effettivamente Potrebbe mescolare le due cose Ovviamente però che succede Non può essere adattata O utilizzata nel momento in cui Magari c'è una competizione Ovviamente ad eliminazione Dove c'è una scadenza Del calcolo di giornata Perché poi appunto Dovevano magari finire dei gironi E quindi poi esserci dei turni E' un turno di eliminazione Oppure un turno di eliminazione Che non è andata e il ritorno Insomma ci sono delle scadenze E quindi bisogna ovviamente Avere un calcolo magari Prima del recupero della partita Quindi adattatevi anche In base alla competizione Quindi per chi utilizza ad esempio E più competizioni Potete avere un regolamento Per la coppa Ad esempio Un regolamento Per il campionato Ok? Ovviamente Cosa può cambiare A livello di gioco A livello dei partite Cioè giocare le partite Senza pubblico Ragazzi cambia Cambia Ed è questo che volevo sottolineare Soprattutto in questo video Spero siate arrivati a fine A questo punto Perché è la cosa principale Cambia perché i tifosi Fanno molto Soprattutto per la squadra Che gioca in casa Ma anche per quella fuori casa Fanno tantissimo L'avere sotto pressione Quelle Diciamo Tutto quel pubblico Che magari ti fischia Quando prendi il pallone Parlo appunto per la squadra Che magari gioca fuori casa Oppure che invece Ti sostiene Magari quando il giocatore Va sulla fascia Pronto per crossare Un giocatore Magari al limite dell'aria Sende il pubblico Che lo spinge Anche per tirare Insomma C'è veramente Tanta tensione In campo Dovuto anche al pubblico Questa vedrà meno Quindi le partite Effettivamente potrebbero essere Leggermente Più equilibrate Più strane Anche per i giocatori stessi Ok quindi State attenti Potrebbe cambiare Un po' il tutto Anche l'arbitro L'atteggiamento Che in genere All'arbitro In campo Che può essere Magari Messo in difficoltà Dal pubblico Perché È messo Magari sotto pressione Ecco Senza Senza il pubblico Potrebbe effettivamente Essere un po' più sereno Prendere decisioni Un po' Più tranquillo Quindi Vedremo come Cosa succederà Da questo punto di vista Però io vi sto comunque Avvisando Attenzione Perché potrebbe effettivamente Cambiare qualcosina A livello di gioco A livello di direzione Della gara Da parte dell'arbitro E a proposito Dell'arbitro Attenzione Non perdetevi Il video di domani Ragazzi Perché appunto Ci sarà una sorpresa Mi raccomando Non perdetevi nulla Ok Detto questo Io ovviamente Voglio sapere la vostra opinione Su tre punti Il primo punto E l'ultimo che vi ho citato Voglio sapere assolutamente La vostra opinione Sul fatto Di appunto Avere Qualche difficoltà Magari Dell'arbitro Di solito Con il pubblico E quindi Magari come potrebbe Cambiare questa cosa La seconda riguarda appunto Invece le due squadre Che saranno in campo Cioè come Effettivamente le squadre Di casa Di fuori casa Oppure qualche partita Particolare Cioè avete già visto Magari nel calendario In questa giornata E vedremo se Succederà anche Per quella successiva Magari appunto Una possibilità Di qualcosa Che potrebbe accadere Particolare Una squadra Che di solito In casa Era spinta molto Dal pubblico Che potrebbe invece Cadere Magari Senza pubblico Insomma Ditemi tutto E di più Sotto questi due aspetti Il terzo Invece riguarda Il regolamento Pensate che effettivamente Sia utile La questione Di utilizzare Ovviamente due regolamenti Per due competizioni Differenti Ma soprattutto Eventualmente Il prossimo anno Utilizzare come regola Non solo L'aspettare Ecco Il recupero Delle partite Ma eventualmente Assegnare poi Il sei politico Quindi fare un mix Delle due cose Cioè Non assegnare il sei politico Subito Quindi aspettare Il recupero Però poi assegnare Eventualmente Il sei politico Per quei giocatori Che nel recupero Non giocheranno Potrebbe essere Secondo me Una cosa interessante Così Non si perdono i bonus C'è meno Diciamo Falsamento Ecco se vogliamo Delle Così si dice Soprattutto Del Appunto del campionato Del fantacalcio Soprattutto Tutto Ma anche Una sorta di Materasso Ecco Di Paracadute Se vogliamo Per quanto riguarda I buchi Nella formazione Perché Magari qualche giocatore Infortunato Squalificato Poi potrebbe non giocare Però almeno Viene assegnato Il sei politico Quindi una sorta Di mix Delle due cose Quindi voglio sapere Ovviamente La vostra Su questa cosa Vi ricordo Quindi di scaricare Dal link Che trovate In descrizione L'applicazione OneFootball Come vedete Vi aggiorna su tutto Vi da anche Degli spunti interessanti Perché Come detto Magari c'è un articolo Che parla Di alcune squadre Che voi Prendono magari Dei provvedimenti In base Alla situazione O anche Una regione Ecco che si muove In un determinato modo Rispetto alle altre E voi potreste Appunto Drizzare un po' Le orecchie Pensare Cosa potrebbe cambiare Anche a livello Calcistico E quindi poi Fandacalcistico Quindi mi raccomando Link in descrizione L'applicazione è gratuita Potete scaricarla Ricordo anche di Passare dai miei social Ultimamente appunto Sto caricando anche Dei meme Divertenti Appunto su Divertenti Tra virgolette Un po' per Dramatizzare Ecco La situazione Che non è da sottovalutare Ma mi sembra un po' Anche troppo Allarmata Se vogliamo Anche dai Media Che non proprio Cioè stanno facendo Il loro lavoro Forse un po' Troppo furbamente Furbescamente Invece di Fare la giusta Informazione Vi ricordo anche Il nostro store Lo trovate sia Nelle schede Che in descrizione E poi vi ricordo Una cosa Domani la sorpresa E un'altra cosa La serie Sul regolamento Mi raccomando Andatela a vedere Perché Alcuni di voi Ho visto che non avevano Un regolamento Ben scritto E tutti Coloro Vi devo fare Una tirata D'orecchi Andatevi a vedere Appunto La serie Sul regolamento Ditemi la vostra Ovviamente sotto Quei video E poi mi raccomando Abbiate un regolamento Molto più Dettagliato Nei prossimi Anni Ok Però già potete Iniziare a scriverlo Adesso Discuterne con i vostri Fandallenatori Avversari Mi raccomando Come hashtag Finale Vi lascio Mettiamo così Porte chiuse Ecco Hashtag Porte chiuse Ok Per essere in tema Detto questo Da Ghermi Special E tutto Ragazzi ci vediamo In caso domani Appunto con la sorpresa Non ve la perdete Mi raccomando Ok Dai Buona giornata a tutti Alla prossima Ciao